400.000 ettari di patrimonio boschivo, 180.000 in aree protette, 25.000 ettari tra il 2007 e il 2014 sono andati distrutti dal fuoco con un danno economico di 95 milioni di euro. Dati snocciolati dall'assessore Mario Mazzocca, di cui un accordo di programma annuale tra la Regione, la Forestale, i Vigili del Fuoco e la Prefettura per la formazione di circa 200 volontari, 500.000 euro investiti per la tutela del patrimonio. Il corso di formazione di secondo livello è avanzato, quindi tende a specializzare, a formare alcune professionalità nell'ambito delle varie strutture di volontariato che compongono in maniera determinante il nostro sistema regionale di professione civile. Le altre due convenzioni invece riguardano la specifica attività di prevenzione in tema di antincendio boschivo, su cui quindi sia la forestale, sia il Corpo Forestale che i Vigili del Fuoco ci daranno, come anche nell'anno scorso, una mano importante. In tutta questa attività non abbiamo investito oltre 500.000 euro. La forza antincendio regionale dunque, al termine di questi corsi, avrà 400 volontari.